Alberto Rossetti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto qui nel Posto delle Parole, anzi bentornato. Ci siamo trovati qui due anni fa per raccontare di Frida Kahlo e oggi ci ritroviamo per raccontare di Vivian Maier. Vivian Maier, il ritratto e il suo doppio. Una mostra fotografica aperta da pochi giorni a Villa Mussolini, a Riccione ed è una mostra che dedica veramente uno spazio importante per scoprire lo sguardo di questa straordinaria donna oltre che straordinaria fotografa. Alberto Rossetti, lei che ha curato la mostra. Ci faccio andare dietro le quinte. Com'è stato curare questa mostra fotografica? Questa mostra affronta un tema specifico. Vivian Maier è ormai diventato un personaggio conosciuto anche al di là del mondo specifico della fotografia. Ma c'è un tema che riguarda il ritratto e l'autoritratto che forse è l'elemento più importante della sua vicenda umana e artistica e forse è anche quello più attuale oggi. Perché lei oltre ad essere considerata ormai uno dei grandi nomi della street photography forse ha anticipato un mondo che conosciamo oggi nell'epoca dei selfie, nell'epoca di Instagram dove la fotografia è di fatto una ricerca di identità è una ricerca della propria personalità e questo è l'aspetto che abbiamo messo a fuoco con Anne Morin e Di Croma ed è forse l'elemento che più ci riguarda da vicino che parla anche al nostro tempo. Eh sì, parla al nostro tempo perché Vivian Maier noi la raccontiamo come fotografa però è importante conoscere quello che era prima perché Vivian Maier lei parlava poco fa di street photography lei la strada l'ha conosciuta ma in un altro modo l'ha conosciuta con una fatica. Sì, di fatto è una fotografa si potrebbe dire postuma nel senso che per tutta la vita ha coltivato la passione della fotografia con una costanza e con una determinazione più che professionale si calcola che abbia fatto qualcosa come 140-150 mila scatti che non ha quasi mai stampato che sono rimasti dei rullini in varie casse che negli ultimi anni della sua vita in un deposito e quando ormai lei non aveva nemmeno le risorse per pagare l'affitto quindi noi abbiamo rischiato che questo immenso patrimonio potesse essere anche gettato E come sono state ritrovate queste casse piene di rullini? Per far fronte all'affitto che non sapeva pagare viene messa all'asta e casualmente un giovane di nome Maluf che faceva delle ricerche su Chicago qualcuno gli dice guarda che in quell'asta forse ci puoi trovare delle immagini che ti possono servire e questo Maluf partecipa all'asta se non sbaglio mettendo 300 dollari e poi piano piano si rende conto nel tempo cominciando ad aprire questi scattoloni questi bauli di avere a che fare con un patrimonio straordinario con una delle più grandi fotografie del Novecento e quindi c'è qualcosa di incredibile in questa vicenda che ha salvato in estremis un patrimonio fotografico incredibile che Vivian ha portato avanti tutta la vita facendo la bambinaia, la tata seguendo non avendo quasi mai una casa solo con una famiglia di Chicago presso cui ha fatto la tata per 11 anni ed è la famiglia a cui era più legata e anche invecchiaia i figli che lei ha curato che erano ormai diventati grandi le hanno dato anche una mano l'hanno aiutata e solo in questa casa di James Boor lei aveva un bagno suo ma lo ha trasformato in camera oscura e quindi solo pochi dei suoi scatti sono passati dal rullino ad una stampa fatta senza avere a disposizione materiale professionale oltre che le fotografie era appassionata anche di film perché i film in Super 8 come si diceva allora erano parte integrante anche delle sue scelte artistiche sì sì la ricerca dell'immagine quasi molto è in bianco e nero poi a un certo punto quando se lo può permettere scatta anche a colori e poi fa dei Super 8 e fa dei 16 millimetri la ricerca la sua ricerca fotografica e cinematografica è limitata solo dalle sue possibilità economiche perché la sua ambizione è quella di una grande figura artistica anche se la sua vita è tutt'altra cosa e qui abbiamo per esempio il libro dedicato a Vivian Meyer fotografa a cura di John Maloof con la prefazione di Key of Dyer il libro ricordo pubblicato da Contrasto e in copertina c'è una foto molto nota di Vivian Meyer con la sua Rolleyflex ed è stata la sua macchina per eccellenza o ha usato altre macchine Alberto Rossetti? Rolleyflex e Leica ha usato queste due macchine e quando lei era la madre era originaria della Francia in un paesino nelle Alte Alpi presso Grenoble e a un certo punto della sua vita riceve in eredità la casa della famiglia ed è lì che ha un po' di danari e si compiera una macchina un po' più performante e investe diciamo queste sue risorse nell'attività fotografica La mostra a Riccione è intitolata e dedicata per l'appunto a Vivian Meyer ed è intitolata Il ritratto e il suo doppio ora in questa definizione il suo doppio vorrei entrare perché è entrare nello sguardo di questa donna anche da un punto di vista se vogliamo di lettura financo-psicoanalitica Alberto Rossetti Sì la mostra si articola fondamentalmente in tre sezioni ombra riflesso specchio perché sono i tre le tre tipologie di autoritratto che lei fa ombra sono scatti in cui in qualche modo lei si autoritrae perché nella foto si vede la sua ombra qualche volta quest'ombra prende uno spazio della fotografia molto importante ma in altri casi è da cercare in qualche parte dello scatto fotografico poi l'altra grande matrice è lo specchio e lei gioca con il riflesso dello specchio in maniera incredibile ed è un continuo rimando in cui il suo autoritratto non è mai l'autoritratto solo di sé è uno scatto spesso nelle vie di New York o di Chicago nei quali però si riflette tramite un'ombra tramite un riflesso tramite uno specchio il suo autoritratto questa è la diciamo la parte più incredibile colta lei faceva la bambinaia ma leggeva andava al cinema era anche una persona molto colta e quindi la sua ricerca è anche frutto di una ricerca anche intellettuale e allora andiamo proprio dentro queste ombre a cui lei faceva riferimento poco fa Alberto Rossetti andiamo a scoprire il valore dell'ombra forse qualcuno può pensare ma sì è una cosa scontata parlando di fotografie l'ombra però l'ombra qui non è un'ombra ricercata da un punto di vista artistico l'ombra è una presenza come come le persone come l'arco di un portico e così via ed è ed è ed è una composizione veramente a volte straordinaria si direbbe che è la ricerca di dire io ci sono al mondo questo è il mio ruolo questo è il mio spazio io la interpreto almeno e anche a Nore nel suo nel suo saggio come una ricerca di identità non c'è mai nemmeno un sottile senso di narcisismo nel fare il proprio autoritratto tant'è vero che peraltro non li stampa nemmeno una volta che sono consegnati al rullino restano nel rullino è una ricerca molto sofisticata mi viene da dire della propria nel proprio spazio nel mondo nel proprio spazio nella società della propria identità per dimostrare per l'appunto l'esistenza non tanto da un punto di vista estetico edonistico potremmo dire ma veramente come come valore di testimonianza ed è questo anche una chiave di lettura delle immagini delle fotografie e dei film circa 100 scatti realizzati prima con la fotocamera rolleiflex e poi con la leica tutto questo è in mostra a riccione alla villa mussolini e le fotografie di vivian maier sono non solo lo specchio di un mondo ma sono anche lo specchio nostro di quando ci mettiamo di fronte alle immagini Alberto Rossetti ma quando noi raccontiamo le mostre d'arte in questo caso la mostra dedicata a vivian maier chiediamo al nostro ospite in questo caso lei di estrarre un'immagine e di farcela vedere con parole sue quale immagine ci racconta? mi viene da immediatamente quella che abbiamo utilizzato per il manifesto della mostra dove c'è la sintesi di tutte le cose che ci stiamo raccontando c'è lei con al collo la rolleiflex che fa uno scatto nella città ma attraverso una serie di specchi si riflette e addirittura c'è quasi un'anticipazione dell'idea del cinema perché il riflesso non è unico ed è una specie di movimento dell'immagine ed è su più piani quasi su più piani quasi che in questa in questa fotografia si riassuma un po' tutto quello che abbiamo un po' analizzato della sua ricerca nella fotografia e nell'immagine perfino cinematografica Alberto Rossetti prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? in questi giorni sto seguendo soltanto attività perché siamo nella stagione delle mostre delle inaugurazioni e quindi non e quale mostra ci sarà come prossima inaugurazione? sto preparando una mostra su Andy Warhol che apriamo fra una quindicina di giorni in Puglia ad Alberobello quindi le mie letture in questi giorni sono molto orientate alle attività che sto seguendo insomma la mostra Warhol Pop Art Identities che sarà prossimamente per l'appunto in Puglia come ci ha detto poco fa il nostro ospite Alberto Rossetti che ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con l'arte grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti